. Lo shampoo che sta facendo scalpore in tutto il mondo, i capelli crescono in modo incredibile. È una realtà, i capelli richiedono diversi trattamenti per essere in ottime condizioni. . Molte donne vorrebbero avere i capelli lisci e questo risulta difficile, perché molti dei trattamenti usati, falliscono lobiettivo. Ma abbiamo anche problemi di crescita, che possono essere dovuti a diverse ragioni, quali la mancanza di vitamina C, i processi chimici in eccesso, o lo stress. . Di seguito introdurremo un rimedio naturale grandioso, uno shampoo e balsamo, dove la combinazione di entrambi, favoriscono la crescita dei capelli in modo naturale e li rende perfettamente lisci. . Shampoo per la crescita e capelli lisci. . Ingredienti, bicarbonato di sodio, acqua calda. Ingredienti per il balsamo, acqua, aceto di mele, essenza di lavanda o la vostra preferita, una bottiglia vuota. . Metodo di preparazione. . Iniziamo mescolando uno cucchiaio di bicarbonato di sodio in un bicchiere di acqua calda ma, se avete un capelli molto lunghi, utilizzarne due o tre cucchiai e circa tre volte la quantità di acqua. . Versare sul vostro cuoio capelluto, a partire dalla radice, massaggiando il tutto per tre minuti. . Al termine sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Una volta che si è sciacquato, è possibile utilizzare il balsamo. . Basta mescolare un quarto di tazza di aceto di mele in un bicchiere dacqua, aggiungendo lessenza scelta per dare un odore migliore. Ora, lasciate che questo agisca per tre minuti e sciacquare ancora con acqua. . Come potete vedere, entrambi sono molto semplici da preparare e si possono fare in casa senza troppi problemi. . Basta evitare che il prodotto vada negli occhi, perché può bruciare un po'. . 3 consigli per mantenere i capelli lisci e lucidi . . Usare prodotti idratanti. . Quando i capelli sono troppo sottili e sfibrati, hanno bisogno di proteine. . . Queste vengono perse ogni volta che si lavano i capelli. . Shampoo, balsami, trattamenti senza risciacquo e maschere contengono ingredienti idratanti. . . Migliorare la struttura dei capelli. . I capelli sono avvolti da una pellicola liscia che li rende luminosi, ma quando viene danneggiata, non riflettono più la luce e diventano opachi. . . Prodotti contenenti le proteine della seta, soia o frumento, rinforzano la struttura indebolita e ricreano la pellicola protettiva. . Più flessibilità ai vostri capelli. . . Spesso, i capelli ribelli, oltre a necessitare di ingredienti che esaltino la loro struttura, hanno bisogno di lipidi. . . Prodotti per la cura arricchiti con preziosi oli vegetali, forniscono gli acidi grassi insaturi di cui i capelli hanno bisogno. . . È possibile scegliere tra i più leggeri oli vegetali, marula, mandorle, sesamo, albicocche. . Quindi ora non soffrirete più per la crescita dei vostri capelli. . Provate questa ricetta che li rende anche lisci. . Grazie per aver dedicato tempo a leggere questo articolo. . Se lo ritenute utile, condividetelo con i vostri amici. . 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 Grazie a tutti